Il punto di Andrea Rangone, Osservatori Politecnico Milano. Il Presidente Napolitano ha aperto il suo messaggio di fine anno con un lungo e articolato intervento sui temi dell'economia. Ha dedicato particolare attenzione alle categorie più deboli di lavoratori, alle piccole e medie imprese, all'innovazione e alla tecnologia. Partendo da questo intervento, ci sono alcuni aspetti del sistema economico italiano che ritengo particolarmente rilevanti in questo delicato transitorio verso la ripresa. L'Italia esce dal 2009 con alcuni importanti punti di forza rispetto anche alle altre economie mondiali. In primo luogo, un sistema bancario fra i più solidi a livello internazionale, in grado di non far mancare il sossegno finanziario alle nostre imprese. In secondo luogo, una buona liquidità potenziata anche da rientro dei capitali per effetto dello scudo fiscale, che costituisce nuova linfa per il nostro tessuto imprenditoriale. In terzo luogo, un insieme consistente di imprese, anche di piccole e medie dimensioni, che stanno reagendo bene alla crisi e in alcuni casi addirittura la stanno sfruttando per innovare e diversificare. Tutti questi punti, penso, possano farci guardare all'anno appena iniziato con ragionevole positività.